Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale! In questo video andremo a darvi uno spoiler incredibile su un personaggio che potrebbe davvero cambiare la vita di Ana e Curro, raccontando loro tutta la verità sul loro passato. Ma prima di farlo, iscrivetevi al canale per non perdere nessuna news! La promessa continua a produrre le sue trasmissioni su Canale 5, nonostante sia estate. Una cosa di cui noi fans siamo sicuramente grati, perché siamo ormai legati a tutte le trame che vivono i suoi personaggi, capitolo dopo capitolo. E non c'è da stupirsi, perché ogni settimana il mistero avvolge gli ospiti della promessa con molte storie irrisolte, e un passato che torna a stravolgere tutto. Ed è proprio questo che è successo a Ana, uno dei personaggi più popolari della serie. La giovane ragazza, ignara di tutto ciò che la aspetta, scoprirà presto qualcosa che cambierà tutto. Dopo aver scoperto che Ramona sta tornando a Lujan, informazione che le ha confessato la sua collega e amica Maria Fernandes, Ana non smette di indagare sul luogo in cui alloggerà, perché potrebbe avere informazioni molto preziose sulla morte di sua madre, avvenuta più di 15 anni prima. Maria Fernandes è infatti arrivata da Lujan con una notizia inaspettata. «Come si chiamava la donna che si occupava di te quando eri piccola?» chiede la domestica a Ana. La ragazza le ha detto che una certa Ramona è tornata in paese. L'arrivo di questa donna è avvolto nel mistero. «È difficile trovare la sua capanna e sembra che nessuno sappia dove si trovi. Tutto lascia pensare che la sua presenza segnerà una svolta nella vita di Ana, ma anche in quella del fratello Curro. Entrambi, infatti, cercano disperatamente la capanna di Ramona per parlarle e, in qualche modo, svelare tutti i segreti sulla morte della madre, qualcosa che la cameriera conosce in prima persona. Inoltre, da quando Ana ha saputo dall'amica Maria Fernandes del suo ritorno a Lujan, nei capitoli successivi si vedrà Ana raccogliere ogni tipo di informazione e riordinare le questioni in sospeso su quanto accaduto nelle ultime settimane. Vale la pena anche anticipare che la domestica scoprirà dei bigliettini che le consigliavano di non continuare ad indagare nel passato per il suo bene, qualcosa che lei ha ignorato. Ana ha trovato la capanna di Ramona, ma è scioccata nello scoprire che la donna è gravemente malata. Se non si prende cura di lei, finirà per morire, ma non può farlo da sola. Chiede aiuto a Maria Fernandes. In ogni caso, il suo arrivo genera un grande mistero per Ana e Curro, ma con il passare del tempo sperano davvero di ottenere sicuramente le risposte a tutte le domande sulla loro infanzia. Per il momento, il personaggio di Ramona apparirà per la prima volta e finalmente incontrerà di nuovo Ana. Ana riceverà una grande sorpresa, che sfortunatamente però non è affatto quella che si aspettava. Chi c'è dietro Ramona, né la promessa? L'attrice che dà vita a Ramona nella fiction di Canale 5 è Immaculada Perez Chiros, attrice spagnola, nota per aver dato vita a parecchi personaggi in varie telenovelas andate in onda in Spagna. Ora cambia per un'ambientazione d'epoca, in cui avrà un ruolo chiave che cambierà per sempre la vita di Ana e Curro. Ramona entra nella S.O.P. con un personaggio che darà molto da parlare nella serie di punta del pomeriggio di Canale 5. Ana riuscirà a interrogarla per scoprire altre verità sulla sua infanzia e sugli assassini di sua madre. Scopritelo insieme a noi sul nostro canale. Iscrivetevi subito per non perdere nulla della S.O.P. Grazie, a presto!